Scotti, sono veramente stupefatto. Di che cosa, signore? Sulu. Come ha trovato il tempo di farsi una famiglia? Beh, come dice sempre lei, se una cosa è importante, il tempo si trova. Ah, allora ecco perché non si dà pace. Senza il lavoro ci si sente un po' soli, vero? Fortunatamente lei è un ingegnere. Con la sua sensibilità farebbe pena come psichiatra.